Ennesimo, e probabilmente non ultimo, capitolo della guerra tecnologica fra Stati Uniti di Trump e la Cina di Xi Jinping. Poche ore fa, infatti, il presidente statunitense ha imposto la messa al bando negli store digitali statunitensi di TikTok e di WeChat. Una decisione, spiegano fonti del governo americano, finalizzata a combattere la maligna raccolta di dati personali degli americani da parte della Cina, promuovendo al tempo stesso i nostri valori e le nostre norme di democrazia. In poche parole, gli Stati Uniti accusano il governo cinese di usare queste due popolari app per raccogliere illecitamente i dati degli utenti, rappresentando conseguentemente una minaccia per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'autonomia americana. Naturalmente, chi ha queste app installate sullo smartphone potrà continuare ad usarle, almeno finché l'impossibilità di scaricare i nuovi aggiornamenti non finirà per renderli inservibili. Rimane però da capire se la mossa di Trump va da letta nell'ottica di una più ampia guerra commerciale fra i colossi dell'economia mondiale o se non sia piuttosto motivata da un tentativo di forzare la mano alla proprietà cinese di TikTok per convincerli a cedere i propri asset statunitensi alla Oracle, azienda non in visa Trump e ai repubblicani. In ogni caso, al netto delle ragioni a monte della decisione di Trump, quello che è certo è che da domani gli utenti statunitensi saranno orfani del popolarissimo social media e dell'app di messaggistica, che pur essendo internazionalmente meno popolare e diffusa rispetto a WhatsApp e Telegram, è comunque assolutamente strategica per comunicare con e dalla Cina. È infatti l'unico modo consentito ai cinesi per collegarsi in via telematica, poiché le app e i servizi quali Google, WeTransfer, WhatsApp, Telegram, cui noi siamo abituati a usare comunemente, in Cina sono banditi. Ma in realtà WeChat è molto più di un'app di messaggistica, è bensì il fulcro della vita digitale dei cinesi, che la utilizzano comunemente anche per effettuare pagamenti di beni e di servizi, oltre che per ascoltarci musica, guardare film o leggere le ultime news. Colpendo WeChat, con l'evidente intento di danneggiare Pechino, il presidente degli Stati Uniti rischia quindi di attivare un pericolosissimo effetto boomerang, che potrebbe avere ripercussione anche sui grandi media player statunitensi, nonché sull'intera economia della Confederazione. Un azzardo davvero enorme a un paio di mesi dalle elezioni politiche nelle quali Trump si giocherà l'eventuale riconferma alla Casa Bianca.